Ciao a tutti, mi chiamo Nadia Geria, da Ravenna. Sono venuta qui a Chisinau e devo dire che la riabilitazione totale è abbastanza complessa, però è una questione di pochi giorni. Devo dire che io mi sono trovata veramente bene. La prima volta che non ho paura del dentista, perché le persone almeno che ho trovato io, con le quali mi sono confrontata, sono state persone carine, disponibili, abbiamo scherzato, mi hanno dato anche dei consigli. Per quello mi sono trovata veramente molto, molto bene. E finalmente sono felice, felice di essere riuscita a fare ciò che volevo dopo tanti anni di pellegrinaggi in giro. A parte che non si sono accorti, mi hanno detto solo che mi trovavano un attimino diversa. Io non ho detto assolutamente nulla, devo dire la verità, non ho detto nulla. Però poi chi mi conosce, tipo la mamma che ti conosce, diceva, Nadia, almeno hai un bel sorriso. Penso che è la prima cosa ai denti, il sorriso, è la prima cosa che vedono gli altri su di te. Ma non è questione solo di estetica, è questione di masticazione, quindi una buona masticazione, una buona digestione. È un po' tutto. C'è l'estetica, ma c'è anche il benessere di una persona. Quindi uno si sente bene, si sente veramente molto bene.